Ciao, sono Franz Degano, quest'anno mi è stato chiesto di fare il presidente di giuria per il design qui alla DC Award. Sono titolare di uno studio di design insieme alla mia socia Marzia Marcolini. Quest'anno il tema era Human Intelligence, non so proprio già cosa che sarà già stata detta mille volte. Devo dire che la giuria design è stata molto interessante, è stata interessante per quanto riguarda i professionisti che hanno partecipato alla giuria, ai giurati, e anche e soprattutto per l'output, cioè per i lavori che abbiamo trovato da valutare e da giudicare. Stranamente e incredibilmente perché il design in Italia ha sempre sfaticato, ha sempre trovato difficoltà a esprimersi, invece quest'anno abbiamo trovato un sacco di lavori molto interessanti soprattutto in alcune categorie rispetto ad altre. E proprio per quanto riguarda la Human Intelligence ce ne sono un paio che hanno trovato un punto di svolta, un punto di entrata sul tema trattato veramente inaspettato, quindi veramente da Human Intelligence. Grazie. 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 Grazie.